Emergono retroscena e particolari nel processo in corso davanti alla Corte d'Assise, presieduta da Alfonso Malato, nei confronti di Anisoara Lupascu, 39 anni, accusata insieme al marito Vasile Lupascu, 44 anni, e al figlio Vladut Vasile Lupascu, 19 anni, di avere ucciso a Naro l'agricoltore Costantin Pinau, 37 anni, e di avere ferito la moglie. La vittima sarebbe risultata imputata per una serie di vicende legate a dissidi sfociati in atti violenti. Pare che le famiglie della vittima e degli imputati si fossero precedentemente denunciate a vicenda per episodi di aggressioni e percosse. Anisoara Lupascu, dopo la disposizione del giudizio immediato da parte del GIP, è l'unica degli imputati per l'omicidio di Costantin Pinau che ha scelto la via del dibattimento. Al processo ieri, due carabinieri citati dal PM Antonella Pandolfi avrebbero reso i particolari dalle prime battute dell'indagine avviata la mattina stessa dell'omicidio. Un carabiniere avrebbe raccontato di avere notato sul luogo dell'aggressione Costantin Pinau sanguinante con alcuni familiari che cercavano di sorreggerlo in attesa dei soccorsi. Poco distanti, per terra, un bastone rotto ed un coltello. L'altro carabiniere avrebbe detto di essere stato inviato dai suoi superiori all'ospedale di Caltanissetta dove padre e figlio della famiglia che avrebbe ucciso l'agricoltore si sarebbero recati per medicare i traumi rimediati durante i tentativi di difesa della vittima e della moglie. Quest'ultima rimasta gravemente ferita. Pinau sarebbe stato massacrato a colpi di zappa e bastone. L'agguato teso gli si rivelò fatale. Pinau sarebbe stato massacrato a colpi di zappa e bastone.